Allora parliamo di, io farei così, prenderei proprio il kit di igiene, così vi spiego perché devono essere usati intanto questi attrezzi e poi come vengono usati. Inga comunque vi fa questa lezione, vi può anche lei vendere questi oppure li potete anche acquistare su Amazon, però ci deve essere tutta un'altra parte, oltre agli strumenti, che è una parte di conoscenza del perché si usano questi strumenti, anche quello che può accadere e come evitare di avere i problemi dopo. Io partirei proprio dagli impianti dentali e le arcate sugli impianti dentali, cioè in cosa sono diversi questi tipi di lavori che voi montate in bocca rispetto ai denti naturali? I denti naturali sono tanti paletti che sono nell'osso, tutti separati tra di loro, invece le arcate dentali su impianti sono un ferro di cavallo avvitato su dei paletti. Questa è la grande differenza, che quindi quando io vado a mantenere i denti naturali devo andare a pulire attorno a tutti i singoli paletti, invece quando io ho questo ferro di cavallo avvitato sugli impianti devo andare a pulire questo ferro di cavallo. Ok, è gli impianti vicino, però il grosso del problema non è sugli impianti vicino, ma è proprio questa protesi ortopedica che è avvitata in un ambiente sporco, pieno di batteri. Io faccio sempre l'esempio, immaginate se doveste avere le mutande per 20 anni, che non ve le levate mai, sarebbe problematico, avreste dolori, pruriti e dopo si diventano sanguinamenti, poi sanguinamento si trasforma in ulcera, l'ulcera si può infettare e ti viene una seticemia, puoi anche rischiare grosso. Ok, lo stesso è per queste protesi ortopediche che sono fisse, avvitate in bocca, sono degli oggetti estranei al corpo umano, in una cavità corporea che è piena di batteri, servono per triturare il cibo, quindi per masticare, per mangiare, quindi si usurano e si sporcano allo stesso tempo e viene meno anche quella che è l'autodetergibilità, significa che quando io parlo, lingua, le guance, la saliva, lucidano queste protesi qui in bocca, i miei denti, io non ho protesi, ma i denti vengono puliti dalla saliva, le guance, la lingua, le protesi invece ortopediche non riescono a essere deterse, pulite, lucidate come avviene sui denti, perché sono fatte di materiali che comunque sono più porosi rispetto ai denti, alle gengive, le gengive poi si rigenerano, desquamano come la pelle del serpente, non abbiamo mai la pelle di due anni fa, è completamente nuova, rigenerata, i denti no, i denti si consumano, le protesi no, invece rimangono tali e quali, si consumano anche queste, ma rimangono tali e quali le gengive finte a come erano state fatte dal tecnico e quindi lì c'è bisogno di un aiuto in più che nei denti naturali non c'è bisogno, con i denti naturali basta uno spazzolino per pulirli, è sufficiente, assieme allo spazzolino è importante disinfettare poi la bocca con un disinfettante, il colluttorio, tutte le cose di cui io non parlo, volutamente non parlo, se io vi dico è sufficiente uno spazzolino e il colluttorio significa che tutto il resto può non servire, è sufficiente, perché lo spazzolino fa l'igiene meccanica e il colluttorio fa l'igiene chimica, disinfetta, sufficiente, poi tutto il resto è una cosa in più, ma non è necessario, quando io invece ho delle protesi in bocca avvitate sugli impianti ho necessità dell'igiene meccanica, che è un'igiene meccanica un po' più sofisticata, non è più uno spazzolino, ma ho diversi attrezzi, diversi strumenti che sono necessari, in più ci sono degli strumenti come questi che sono necessari, questi sono gli scovolini, nei casi in cui il paziente ancora ha dei denti, non ha perso ancora tutti i denti, ma ce ne ha ancora alcuni in bocca, allora in questo caso per pulire tra gli impianti e i denti, oppure tra i denti che il paziente in generale ha perduto i denti, ha avuto la piorrea e quindi se ha avuto la piorrea la gengiva si è abbassata, si creano degli spazi, pulisce tra gli spazi con questi attrezzi qua, serve sempre l'igiene chimica, quindi il disinfettante, il colluttorio e serve avere degli attrezzi che hanno delle forme più o meno diverse che ci permettono di arrivare nelle parti più difficili, specialmente quando uno ha una mano tipo Giassi, il dottor Giassi, fai vedere la tua mano, mettila di fianco alla mia, c'è una bella differenza, ok? Io posso suonare il piano, lui suona due tasti con un dito, io riesco a beccare un tasto con un dito, significa che la manualità è diversa da persona a persona, anche la finezza dei movimenti, ci sono pazienti che hanno questo problema, che gli trema la mano e quindi c'è bisogno di, e magari non riesce a passare il filo, come fa a passare il filo? Non ce la fa, e allora c'è bisogno di attrezzi specifici, speciali che servono, oppure là dove proprio il paziente, immaginiamo, non ha le mani, come fa? Ha bisogno di una persona che l'aiuta e questo va considerato, intanto noi quando facciamo i lavori, ci sono alcuni casi in cui non è possibile mantenerli i lavori, allora lì preferiamo fare dei lavori che si mettono e si tolgono, che si attaccano e si staccano. Protesi ortopediche che possono essere rimosse e pulite sotto il lavello, sotto il getto dell'acqua, invece se abbiamo un paziente che, Tiziano, ha le mani grosse, però ha ancora i movimenti conservati come quelli di un ragazzino, diamo fiducia, mettiamo le protesi avvitate, perché sappiamo che pulirà, poi avrà la manualità per pulire, userà degli attrezzi un po' più sofisticati, il più delle volte poi cosa accade? Che il paziente non sempre capisce come deve pulire i denti, lo impara strada facendo, strada facendo significa che può capitare anche che arrivano dopo mesi qua da noi pazienti che hanno i denti molto sporchi, in quel caso non va condannato nessuno, sono cose nuove, sono fasi della vita nuove, si perdona a tutti, noi perdoniamo tutti e diamo anzi, è quello un momento d'oro in cui il paziente capisce che deve fare qualcosa in maniera diversa. Ci sono invece pazienti che non hanno problemi, significa che sono già abbastanza efficaci in quello che fanno, però ci sono anche pazienti dove delle volte noi dobbiamo addirittura cambiare i lavori, perché ci rendiamo conto che non riesce a mantenere quei lavori e allora facciamo downgrade, mettiamo delle protesi che sono più semplici, semplificate. Quello che è importante che capiate che la situazione vostra è differente da ognuno di voi, non tutti hanno la stessa situazione di partenza, tutti hanno protesi differenti in bocca, tutti hanno perduto parti di corpo differenti in più o meno quantità osso, più o meno gengiva, quindi hanno più volume di protesi o meno volume di protesi artificiale e quindi quello che deve essere il check up diciamo di quello che va fatto, deve essere concordato assieme al dentista, protesista che vi vede o all'igienista. L'igienista è questa figura importante che vi deve seguire.